Facerei le emozioni alla musica. Come qualcuno di voi sa, c'è stato un contest, un concorso canoro e musicale dedicato alle band rock emergenti, gente che mai può aver pensato di frequentare, di farsi vedere da 120.000 persone in un momentaneo! Quindi queste band qua del Trentino hanno fatto questo contest, tra 160 di loro ne sono state scelte 6 che esibiscono sul nostro palco qui. Quindi direttamente dal Trentino Euregio Contest la prima band che vado a presentare sono Atop The Hill! Dicono che sono molto conosciuti da queste parti, quindi se siete qua del Trentino, dell'Alto Alice, di Bolzano, eh? Li conoscete già! Tutto il resto d'Italia e del mondo e dell'universo avranno questo piacere! Buon divertimento ragazzi! Il mondo è vostro! In collaborazione con Grazie! 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 Grazie!